Gli iraniani andranno alle urne venerdì per eleggere il nuovo presidente o confermare il riformista Rouhani per un secondo mandato. In ballo non c'è soltanto il futuro del paese ma anche le sue relazioni con il resto del mondo. Il presidente americano ha già annunciato di voler rivedere l'accordo sul nucleare che l'Europa invece vorrebbe mantenere. Non siamo una colonia degli Stati Uniti, spiega questo eurodeputato. Perseguiamo una politica indipendente e ritengo che l'Unione Europea sia molto impegnata per continuare a migliorare la situazione. Il presidente uscente ha favorito l'apertura economica del paese, a cui però non è seguito anche un miglioramento dei diritti umani. In effetti Rouhani, favorendo la questione del nucleare, spiega questo esperto, ha tralasciato altre questioni, tra cui i diritti umani in Iran. Va detto inoltre che la Commissione Europea non ha insistito sulla questione dei diritti umani. Nell'ultimo decennio le relazioni tra l'Iran e l'Unione Europea sono state caratterizzate dalle sanzioni imposte al paese per contrastare la proliferazione nucleare. Con la ripresa dei negoziati tra gli Stati Uniti e l'Iran, l'amministrazione Obama era a conoscenza della questione di chi al potere in Iran è iniziato a intrattenere relazioni dirette con la guida della Repubblica Islamica. Se guardiamo alla Cina e alla Russia, quando devono intervenire a livello regionale, si mettono in contatto direttamente con l'amministrazione della guida suprema, la guida iraniana. Dal risultato dello scrutinio di venerdì dipenderà la possibilità per l'Europa di continuare ad avere un partner con cui poter continuare il dialogo.